La tabella denominata B è relativa ai millesimi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scale. Come recita il codice civile, le scale sono mantenute ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà, in ragione del valore di singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà, in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine di ottenere detti valori millesimali, è innanzitutto necessario individuare le unità che possono servirsi delle scale. Nel caso in cui il complesso condominiale sia composto da più blocchi, si avranno tante tabelle B, quante sono le scale, tabelle derivate. È necessario quindi eseguire due tipi di calcoli. Per la prima metà si dovranno riproporzionare i millesimi di proprietà generale, escludendo le unità immobiliari che non hanno accesso alle scale. Per la seconda metà si dovrà invece considerare l'altezza di ciascun piano dal suolo, espressa normalmente in metri lineari, anche se in taluni casi vengono utilizzati il numero dei gradini, e proporzionarle all'altezza totale dell'edificio. Calcolare il volume o la superficie virtuale a piano, sommando i volumi o le superfici virtuali di ciascuna unità insistente sul piano stesso. Proporzionare il valore primo ottenuto sulla base del volume o superficie virtuale di ciascuna unità rispetto al totale del piano, oppure, se selezionata l'apposita opzione nel wizard di creazione del documento, in parti uguali fra tutte le unità del piano. La tabella denominata C è relativa ai millesimi di manutenzione ordinaria e di esercizi e dalla manutenzione straordinaria e ricostruzione dell'ascensore. La modalità di calcolo è quindi identica a quella utilizzata per la tabella B, C, ferma restando la necessaria individuazione delle unità che utilizzano l'ascensore, che possono differire da quelle che utilizzano le scale. Proprio per questo motivo si rende necessaria la separazione della tabella scale da quella ascensore. In maniera analoga all'esempio precedente proponiamo il calcolo dei millesimi ascensore tabella C. Selezionando quindi le unità che usufruiscono dell'ascensore sarà possibile tramite il pulsante operazioni ricalcolo tabelle millesimali ottenere i corretti valori millesimali della tabella.